Senza torna a come un evento dedicato al matrimonio, alle nozze, agli sposi. Sentiamo, vediamo. Una fiera dedicata agli sposi in una delle location più romantiche dell'Ario. È stata presentata oggi Noi Sposi, l'esposizione dedicata al matrimonio che si svolgerà a Villa Erba il 23 e 24 ottobre prossimi, a 14 anni di distanza dall'ultima rassegna sul mondo delle nozze ospitata dalla celebre villa di Cernobbio. Nella cornice è l'ideale per un evento di questo genere. Noi abbiamo favorito questa iniziativa proprio perché riteniamo che ci sia questa evidente connessione tra questo sito e questa manifestazione. Speriamo che abbia successo, che merita. Al mondo degli sposi saranno dedicati tre spazi della villa, l'Ala Lario, l'Ala Cernobbio e il padiglione centrale, dove prenderanno posto gli oltre 150 espositori scelti con un criterio di esclusività territoriale. Ci saranno tutti i migliori per il settore merceologico inerenti agli sposi e all'interno di questi poli espositivi ci saranno anche delle esibizioni. Quindi non ci saranno delle sfilate, ma ci saranno bensì cinque coppie di modelli che sfileranno ogni giorno per la durata della fiera per ricreare quello che è l'impatto romantico del matrimonio. Tra gli eventi collaterali legati alla fiera, anche la possibilità per i visitatori di vincere un weekend in una capitale europea, un anticipo di viaggio di nozze.